Salve a tutti cari amici angresi, siamo qui con un nuovo incontro per rappresentare la situazione della nostra città vista da coloro che hanno un ruolo importante nell'ambito del Consiglio Comunale che è appunto quello dell'opposizione. Ovviamente non possiamo non prendere il nostro discorso da quello che ci siamo lasciati l'ultima volta, è in sostanza l'annosa e preoccupante questione della SOGET. Abbiamo avuto un Consiglio Comunale molto lungo che ha avuto come principale punto di discussione la questione della SOGET con alcuni provvedimenti proposti dalle minoranze che a differenza di questa amministrazione hanno portato a conoscenza appunto della cittadinanza dei problemi collegati a questa scelta che è stata fatta appunto dall'amministrazione Mauri. Quella di affidare il censimento del territorio dal punto di vista appunto dei tributi Tarso e Isci e la gestione appunto della riscossione coattiva di questi tributi. Sappiamo tutti il problema delle procedure che sono state seguite in malo modo e in particolar modo la procedura che non ha visto un bando pubblico che poteva individuare il migliore soggetto che potesse gestire eventualmente appunto il Consiglio Comunale avesse determinato questa scelta il servizio di recupero dei tributi. Invece l'amministrazione in base a una propria valutazione ha individuato senza una procedura prevista dalla legge un soggetto in questo caso appunto la soggette che effettuasse questo servizio con un agio che tutti conosciamo spropositato che siamo al 30% IVA compresa. Ebbene il Consiglio Comunale ha discusso di questo problema e ha deliberato con il voto favorevole anche della maggioranza e quindi vuol dire che è un'ammissione di colpa, un'ammissione, una presa di coscienza che si sono commessi degli errori nel seguire questa procedura dove in sostanza si deve valutare un sistema per togliere alla soggette questo servizio appunto di recupero coattivo dei tributi ma semplicemente la soggette dovrà svolgere un'attività di censimento quindi verificare quanti soggetti che sono presenti sul nostro territorio devono pagare. Questa proposta appunto che è partita dal nostro partito dal PDL è stata oggetto di un accordo politico nell'ambito del Consiglio è stata accettata dalla maggioranza ma il dato politico significativo appunto è che loro si sono resi conto che hanno commesso un errore grave nelle procedure di affidamento e quindi stanno cercando come dire di analizzare eventuali strade da percorrere per ritornare indietro quindi finalmente si è resi conto appunto dell'errore commesso e quindi significa appunto che si sta sul suggerimento delle opposizioni percorrendo una strada di riparare questi errori. Logicamente questo non significa automaticamente che la soggette sparirà perché questi scellerati hanno sottoscritto un contratto con la soggette quindi la soggette che è un soggetto privato logicamente prima di ritornare sui propri passi probabilmente chiederà conto e ragione ma almeno si è iniziato appunto un discorso dove noi presto chiameremo appunto l'amministrazione a darci conto rispetto a quelle che sono gli indirizzi che il Consiglio Comunale ha dato. Nell'ambito del Consiglio Comunale si è discusso di tante cose soprattutto il giorno successivo al primo Consiglio Comunale perché la mattina si è scoperto in sostanza che il sindaco almeno a mezzo stampa si era saputo che aveva avuto un avviso di garanzia sulla questione soggette in particolar modo sul fatto che lui avesse abusato appunto del proprio ruolo per far assumere il proprio figlio all'interno della soggette e quindi di conseguenza è stato sottoposto appunto a delle indagini da parte della magistratura. Su questo aspetto voglio dire una cosa si è discusso tanto della questione relativa appunto all'assunzione del figlio al fatto che il sindaco aveva detto che il figlio in realtà aveva svolto uno stage ha logicamente mentito perché poi è stato prodotto un documento dell'Inps un documento contributivo dove il figlio del dottore Mauri risultava assunto a tempo indeterminato alla soggette come dipendente e voglio dire un aspetto su questo signori la maggior parte di voi probabilmente conoscono il dottore Mauri ebbene se questa notizia non fosse stata vera sicuramente il dottore Mauri andava all'Inps produceva un certificato contributivo del figlio e nel caso in cui quello che lui dice che è falso non fosse stato vero avrebbe prodotto il vero certificato contributivo del figlio ma siccome quello che è stato prodotto quello che è stato distribuito consegnato per lettera anonima allo scrivente così come altri soggetti è il certificato originale relativo al figlio del dottore Mauri cioè che testimonia che il figlio del dottore Mauri è dipendente della soggette ebbene oggi ne abbiamo la certezza e anche la magistratura sta facendo la sua attività altro aspetto è quello relativo appunto a un'eventuale denuncia che il dottore Mauri ha fatto in consiglio comunale più che eventuale una certificazione lui ha detto che io avrei chiesto ai carabinieri se lui aveva avuto o meno l'avviso di garanzia ebbene logicamente questo non può essere che è una cosa falsa continuo a dire bugie così come ha mentito rispetto appunto alla questione del figlio che è dipendente stato dipendente della soggett ma ha mentito anche dicendo che io ho chiamato i carabinieri io non ho nessuna come dire possibilità di chiamare i carabinieri e di chiedere delle informazioni perché non sono un operatore della giustizia e quindi assolutamente non è possibile questa cosa quindi un'altra menzogna un'altra falsità il dottore Mauri farebbe bene a rimettere appunto il suo mandato ad andare via dalla nostra città perché non è degno di fare appunto il sindaco di Angri grazie